Riorganizzazione della rete ospedaliera, riduzione delle liste di attesa, edilizia sanitaria, digitalizzazione e innovazione tecnologica. Questi punti salienti del programma sanità del Movimento 5 Stelle in Abruzzo, presentato questa mattina presso la sala convegni della Camera di Commercio di Chieti, dalla candidata presidente Sara Marcozzi alla presenza del ministro della Sanità Giulia Grillo. Quello che noi abbiamo detto è che bisogna garantire il servizio, non è la struttura in sé, perché se tu hai una struttura aperta che non funziona, facevamo l'esempio dei punti nascita, no, se tu hai un punto nascita che fa 50 parti l'anno, che non ha la terapia intensiva neonatale, che non ha l'anestesista, hai la struttura ma non hai il servizio, allora il concetto è garantire il servizio, il servizio lo garantisci facendo tutto quello che devi fare, dov'è la rete dell'emergenza urgenza, la stiamo aspettando dalla regione, le reti tempo dipendenti, quindi quando tu attui una serie di misure come quella di magari dare seguito alla proprietà clinica su alcune strutture che stanno in piedi e costano troppo rispetto a quello che fanno, però poi dall'altra parte devi dare il servizio al cittadino, lo devi lasciare abbandonato nel nulla che se ha bisogno non sa dove rivolgersi. Lei ha puntato anche l'indice sulla questione delle liste d'attesa in Abruzzo. Allora il tema delle liste d'attesa anche lì è un tema prettamente gestionale, non è solo esclusivamente un tema di risorse umane come alcuni vogliono fare credere, diciamo nascondendosi dietro le proprie responsabilità. Bisogna dare degli obiettivi cari ai direttori generali e fare sapere ai direttori generali che sono lautamente pagati da noi cittadini che se non raggiungono quegli obiettivi se ne vanno a casa. E' semplicissimo, vedrà come si riducono le liste d'attesa in 5 minuti, si riducono subito. La nostra, speriamo, futura Presidente di Regione avrà tutta l'autonomia per indicare i criteri migliori. Il tema è che chiaramente la legge nazionale, l'impianto nazionale, senza io l'avvalo delle regioni non lo posso cambiare, allora va bene la nomina fiduciaria perché se uno nomina un illuminato è tutto a mio vantaggio, voglio dire, però sarà veramente nostra preoccupazione come Movimento 5 Stelle quello di rendere noti i criteri appunto con cui verranno nominati i nuovi direttori generali e rendere note le qualità, insomma le capacità che questi manager hanno e cosa sono riusciti a fare prima di venire, perché non è che devono sperimentare qui la loro capacità, la devono già avere sperimentata da qualche altra parte.